fare le strategie globali sul mercato locale è sempre un'operazione di fino e in questo credo che abbiamo fatto un buonissimo lavoro perché abbiamo posto intanto al centro le logiche dei nostri clienti e quindi quali necessità hanno e come le sviluppano normalmente quindi la prima cosa importante per loro è vedere che questa macchina che è nuova sul mercato che produca e produca i loro lavori quindi abbiamo sviluppato nel nostro showroom la possibilità di fare delle produzioni vere e proprie normalmente evitiamo i nostri clienti a produrre 5 10 20 mila passaggi proprio per verificare effettivamente la capacità di produzione della nostra macchina e di capire come impatta nel loro modo di lavorare sia nella gestione del carico del dei fogli sia nella gestione del workflow vero e proprio perché poi la nostra macchina si deve introdurre un workflow consolidati mettere il cliente al centro ha significato in primo luogo questo in secondo luogo è stato quello invece di dare delle risposte certe risposte certe vuol dire che quando parliamo di costi di produttività di effettivo ritorno dell'investimento sappiamo esattamente quali sono i driver da dover toccare quindi quali sono effettivamente le cose su cui andare a puntare per ogni singolo cliente questo ovviamente richiede da parte nostra un lavoro abbastanza importante di analisi ma poi il ritorno di questo investimento da parte nostra è sempre molto soddisfacente questa è stata forse il primo pilastro su cui abbiamo costruito le gambe su cui far muovere la nostra macchina perché prima di tutto dovevamo garantire in un territorio come quell'italiano vicinanza ai clienti quindi costruire una rete di partner che fossero in grado di garantire un servizio di assistenza in linea con gli standard qualitativi che si aspettano normalmente lavorare soprattutto sull'affidabilità del prodotto non tanto in termini generali ma sulle specifiche richieste del cliente questo vuol dire banalmente faccio un esempio concreto che per quei clienti che stampano ad esempio bollettini e che hanno bisogno di utilizzare materiale già preforato la certezza che non ci siano blocchi macchina che non ci siano espulsioni di foglie imprevisti che quindi il flusso di lavoro venga mantenuto e questo quindi fa parte di quell'aspetto di assistenza poi in post vendita che diventa fondamentale altrimenti il cliente vede una cosa nella fase iniziale e poi non si realizza nella fase finale e questo è quello che abbiamo fatto con i nostri partner la nostra forza tecnica interna ha lavorato moltissimo proprio per formare i tecnici in campo e per garantire nel momento in cui viene fatta l'analisi quali possono essere le criticità e quindi poi costruire un contratto di assistenza tecnica doc e dopo il pre for all ci vedranno tanto sul mercato nel senso che per for all per noi è stato finalmente il modo di poter presentare tasca alfa pro 15000 c al grande pubblico quindi non solo all'interno del nostro showroom ma all'interno di una fiera che ci voleva l'aspettavamo tutti come amo definire è il vero esempio di concorrenza cioè concorriamo tutti assieme per far crescere questo mercato e finalmente i clienti possono venire confrontarsi per noi la sfida di pre for all era presentare una macchina che stampa ma non dire che era semplicemente ingete quindi sfruttare una moda ma dire intanto stampa scopri che l'ingete è la tua possibilità e questo credo che siamo riusciti a vincerlo adesso si tratta di concretizzare come abbiamo detto lavorando sulle esigenze specifiche vuol dire prendere ogni singolo cliente che è venuto a trovarci ragionare sulla sua richiesta specifica e approfondire quelli che possono essere gli sviluppi futuri ci auguriamo tante macchine